Vai Enrico, vai con l'austropool. Via l'austropool e ho un numero detto da Tattillo, da 0 a 5 per valutare questa carta, un po' a caso anche se vogliamo. Quanto? Io ho il mio voto personale. Il tuo voto personale di sta carta. 3. Ma tanto tu sei strozzo e quindi il tuo voto caro vale meno di niente, no? Quindi è inutile anche che io glielo chiedo. Sotto al 18 ho rifiuto. Vabbè dai caro, sotto al 18 puoi rifiutare. 5, voto 3 3, tordici. È uscita una nuova carta? Ok caro sì. Leo stiamo vedendo tutte quelle riperate ieri. Poi non... Dobbiamo anche giocare anti-down. Non so se fare qualche ranker. Cari ho casa libera io. Quindi possiamo stare insieme fino a quanto? Io qua pago. Tattillo per l'amor di Dio, mo per due ore in più quanto vorrei pagare in più? Due euro. Cosa ne ero allora? No, costa tre euro. Vabbè, te li pago io. Ok, 5, 2, 3, 4, 5 1. No, 1. Ok, ci sta 3. Sì, per le 4. Ok, allora. Nel nostro pool 26% 3 24% 2. C'è ancora gente che sta probabilmente votando. Allora cari, questa carta è una carta dello stregone, perché è importante. Questa carta non è una carta, questa carta è una spell dello stregone. Costo 2 mana, che dice che ogni giocatore trasforma un minion random nella sua mano, nel demone. Questa carta è la famosa carta che manda a fare in culo i deck combo OTK che poi alla fine è un po' sempre la stessa cosa di combo e OTK quindi sì manda a fare in culo ed ecco OTK questa cara è la carta giusta. Quindi bravo, bravo e mi piace molto questo paragone anche se dall'altra parte è anche vero che sono due carte diverse uno perché l'altro è un minion e questa è una spell due perché il Dirtirite che io ho una carta che adoro e che secondo me Dirtirite sta avanti a questa carta qua eh Dirtirite sta avanti non dico anni luce ma sta avanti e anche di parecchio il Dirtirite ti metteva una carta in campo no? Prendeva una carta dalla mano del giocatore e te la metteva in campo quindi vuol dire che tu chiaramente lo... ah da una parte puoi dire il Dirtirite è meno forte di sta carta perché se mettevi un minion incontestabile non lo potevi rimuovere è anche vero caro che se tu giochi il Dirtirite e evoca dall'altra parte un minion che non puoi contestare hai giocato male il Dirtirite perché tu il Dirtirite se giochi contro Prede magari giocavi contro Razzagus e prendevi che ne so Belen Razza no Razza vabbè Razza concedeva a prescindere prendevi Belen è normale caro che Belen non devi contestare perché se non contesti Belen hai giocato male il Dirtirite è vero che contro un Dekagro tu giocavi il Dirtirite anche al turno 2 contro Dekagro te lo potevi permettere perché il Dekagro ti buttava in campo un facciamo una media un 2-2 e poi mettevate un 2 second count il Dirtirite caro secondo me era una carta che a me poi manca tantissimo perché adoravo proprio il concept questa non è come il Dirtirite anche se assomiglia tanto perché così come il Dirtirite voi prendete una carta dell'avversario e la bruciate in questo caso non è che la bruciate la trasformate in un demone quindi può essere il Jarax potrebbe essere Cisciazampa potrebbe essere Adronox potrebbe essere Maligos cioè raga scusami è un Dek come quello di Cisciazampa se voi giocate questa carta chiaramente bisogna stare pure attenti a quando giocarla è chiaro che la giocate non all'inizio da Tilo la giocate in late stage quindi prendete cose come Tremox oppure cose se volete se volete poi fare le persone skillate come Cisciazampa e vincete perché trasformate Cisciazampa Matti l'abbiamo nominato è arrivato il Duca che saluta il chat Duca caro io chiaramente le ho le ho dedicato questa carta nella speranza che lei me la possa far dorata proprio io vorrei questo vorrei da lei se può perché mi renderebbe orgoglioso il cuore pieno di gioia questa carta secondo me è la sua poi magari ne sbaglio ma un po' ancora la conosco eeeh questo è questo è ma potrebbe uscire azzari che animale è azzari il 10-10 ha risposto lo farò doppia copia grazie e si caro che azzari è un demore no si però penso che non posso uscire l'azzari è un token dei sigilli della Rin quindi non può uscire caro perché altrimenti altrimenti se esce azzari escono anche i demoni 2-2 i 3-3 i 4-4 non credo che escono i token credo che escono i demoni e quindi esce Dungard e quindi esce Jaraxus e quindi esce anche la la 4-3 che ti fa scartare una carta può uscire qualsiasi cosa no è token non esce esatto è un grande duca è preparatissimo è preparatissimo ora chiaramente ci sono vari spot per cui questa carta è una merda non riputerei questa carta così tanto un combo breaker o meglio lo è lo è questa carta è un combo breaker però è anche vero che se voi non giocate contro deck o tk o combo che succede? allora prima di tutto dobbiamo capire dove giocare la sta carta da Tillo dove la giochiamo? rimane sempre la stessa cosa di prima con uno zulo allora in un level lock io penso che hai abbastanza bassa aggressività ok? da poter fare a meno di questa carta perché non c'è tante combo che vuoi rompe cioè tu con il level lock giochi con i giganti i 7-7 e se vinci vinci se non vinci non vinci se non vinci è normale che vinci in un combo in un cubo stesso affare vinci con i vari Umbra e i vari cubi se l'avversario ti spacca l'arma non vinci perché hai demonic project in un contro probabilmente sarebbe la scelta più azzeccata quali sono i minion che giochi in un combo in un control sono voilord no? sono voilord quindi c'è il rischio che tu giochi demonic project e tu ti trasformi in un voilord in un flame imp c'è il rischio tatillo c'è il rischio è anche vero che se non c'è minion in mano questa carta non trasforma niente è normale che se l'avversario non ha minion in mano questa carta non trasforma niente se giocate contro girazampa questa carta potrebbe prendere il glacial shard dell'avversario e trasformarvelo un jalaxus e lì poi giù di bestemmie e lì poi giù di bestemmie quindi regà ha un fattore grosso rng questa carta che se sfruttata a dovere potrebbe risolvervi la partita potrebbe vincere da solo la partita però va giocata con un minimo di astuzia e soprattutto in late game quando il pool delle carte dell'avversario è comunque ridotto e sei quasi sicuro che quelle carte sono minion e che sono pezzi di combo regà il maligos druid c'ha un servitore per dire c'ha maligos che c'ha poi il maligos druid che servitore c'ha tatillo il nuovo 3-4 c'ha c'è il nuovo 3-4 che si trasforma in maligos e poi basta perché tutti i 3-6 4-4 se tu questa carta la giochi in late stage sono già stati giocati e quindi è normale che è fortissima perché prendi maligos e lo trasformi in un demone prendi la leggendaria 3-4 e la trasformi in un demone però gari non è sempre così perché se giochi contro un deck aggro rischi addirittura di fargli un favore questo è qua Mattia c'è il duca che ti domanda chiedi a Matti se sta espansione è un power livere esagerato per ora sì caro è esagerato è tre volte più grossa di Witchwood chiaramente non si avvicina Angoro però è anche vero che abbiamo ancora quante carte da visualizzare 100 e passa quindi caro potrebbe tranquillamente arrivare a Angoro e magari superarlo perché il power livere delle carte è fortissimo sai qual è il problema Marco caro che anche se il power livere delle carte è sbroccato questa questa è sbroccata questa non è questa sbroccata è un parolone questa è sbroccata anche se sono sbroccate come carte purtroppo per come si è stanziato adesso il meta non riescono a trovare spazio quindi dobbiamo aspettare le altre 100 carte sicuramente i cari di spazio lo troveranno perché non puoi non far trovar spazio a una spell del genere dove cazzo non puoi un deck non può non puoi non trovar spazio in un deck del genere un deck del genere è un deck che gioca a questa spell è forte è troppo forte però devono uscire i mech giusti devono uscire le carte giuste quello è il discorso per fare in modo per l'appunto che venga giustificato l'utilizzo allora cari un expected results e questa carta questa carta è forte è inutile che ci perdiamo in chiacchiere questa carta è forte grazie mille maqueo grazie per i 50 bit caro questa carta non dà molto fastidio anche in early game contro mazzi tempo pensa a far sparire uno scagnozzo da un tempo rogue a t3 si caro vero però è anche vero che non è detto che prendi lo scagnozzo non è detto che prendi la faldorei è anche vero che puoi prendere la lucciola si comunque ci sta il tuo ragionamento è anche una bella di lerba non sarebbe male trasformargliela in un demone il problema è che se poi la trasformi in un dungard in un jaraxus in un 6-6 anche che fa un danno è un po' rng chiaramente però insomma è giocabile attenzione caro non ti scordare che trasforma pure la carta tua però cioè non è solamente non è solamente che te trasforma l'avversario trasforma la tua e a meno che tu non c'hai cose che vuoi essere trasformate che ora non me ne vengono quali sono minon in un control che vuoi che possano essere trasformate sono minon che non ti servono in quella partita il librarian bravissimo il librarian quando non vuoi pescare perché sei in fatigue ok un beetle un beetle un doomsayer ok benissimo ci sta il doomsayer a turno 10 costa giochi il doomsayer non ha senso giocare il doomsayer a meno casi strani e quindi va bene trasformi un doomsayer in un qualsiasi demone va bene però questo caro è anche una cosa che secondo me non l'avevo detta ma insomma va detta di quella carta unexpected results il beetles caro non ti piace proprio sul beetles è bruttino scarafaggio effettivamente bravo bravo unexpected results e poi ti esce l'imp cioè invece che hai il beetles che fa 3 di armor ti esce l'imp che te fa 3 danni eh vabbè è bellissimo che c'è grobola caro c'è un cacciara la madonna è tornata c'è una cacciara preme il push tour allora cari 4 mana spell epica del mago evoca 2 servitori random vabbè random gli piace tanto è inutile perché non mette random quando si deve mettiamo random mette 2 minion random a costo 2 viene chiaramente upgradata se abbiamo danni magi e quindi e quindi abbiamo un concept che finora non si è mai visto no allora i minion con spell damage vi ricordate quando c'era il famoso sempre freeze mage ti ricordi caro che c'era il koboldo no quel koboldo mi pare 4 mana 2 2 che dava più 2 spell damage mi pare si penso di averla prendere candela vabbè tutti i koboldi non prendono la candela caro è fatta apposta quindi si è una catacombe e comunque non ci vedono ma detto questo chiaramente riferita alla lord di world of tanks no vabbè invece di dire cose a caso che sto dicendo no aspettate no ho detto una cazzata no ho detto una cazzata i koboldi sono quelli con le candele in testa i koboldi sono quelli con le candele in testa si quella da warlock e perché il koboldo dice tu non prendere candela perché è la sua cioè tu non prendere la candela cioè è come se qualcuno tirase i capelli vabbè raga è inutile è inutile andare avanti con questo discorso ma che cazzo stai a dire basta ho un spell di resolve finalmente lo spell damage non è visto più come burst ma è visto come un qualcosa che può migliorare la board presence definizione è perfetta e rigorosa di un expected results non mi sarei espresso in maniera cioè mo la rico non mi esprimo in maniera così così buona è così perfetta se noi in un deck mettevamo che ne so talnos in un tempo mage noi non mettiamo talnos solo per pescare lo mettiamo perché vogliamo fare più danni con le nostre spell di un tempo mage con i missili arcani con la frostbolt con la fireball noi possiamo costruire un deck basato di stile tempo perché sta carta cari vabbè è tempo è inutile sta carta è tempo sta carta è tempo quando si parla di evoca servitori che viene upgradata e quindi tira servitori con un costo in mana maggiore le b si alza quindi è chiaramente una carta tempo se noi facciamo sempre un deck tempo con danni magici mettiamo chiaramente qualche servitore in più con danno magico non solamente talnos noi possiamo creare e vincere e vincere in tempo in una maniera incredibile in una maniera incredibile e visto che questa carta l'ho vista oggi e l'ho studiata oggi l'ho potuto fare anche con il celestial emissary il celestial emissary è quella carta che rende sgrava ancora di più questa carta probabilmente cari me l'avete scritto in chat ora vado a vedere non funziona come la sperson no no non funziona come la sperson come funziona ma che più un danno magico equivale a più mana e quindi se tu non c'hai danni magici evoca due servitori di 2-2 magari due doomseer se vogliamo se tu c'hai un talnos evoca due servitori di 3-3 se tu mi giochi il celestial emissary a 6 mana questa eeeh perché chiaramente ragazzi il celestial emissary è la spell di questo turno non è nel turno dopo o negli altri turni è la prossima spell in questo turno l'anespetti results evoca 4 mana due servitori a costo 4 e quindi giocate un 2 mana 2-1 più una spell a 4 due servitori a 4 di mana 4-4 sono 4-8 sono un 10-9 a costo 6 e non è tanto il fatto che è forte un 10-9 a costo 6 è molto importante il fatto che essendo un deck tempo quindi mid range based mettete in board minion che poi andranno ad attaccare probabilmente il celestial emissary credo che sia una carta sbroccata veramente veramente forte poi se volete farle one bocob e magari avete il tempo di farle magari avete giocato anche alunet e quindi magari potete volete sfoltirvi la mano andate di celestale emissary andate di talnos e con 4 mana evocate due servitori 5-5 oppure semplicemente oppure semplicemente visto che tu sei un tipo molto arrogante giochi il celestial emissary e giochi una fireball a costo 7 8 usi doppio celestial la fireball fa 10 danni sì sì assolutamente sì assolutamente sì è cuburativa è un battle cry 8 come fai a giocare il pyroblast come fai a giocare il pyroblast e questi costano già 4 tatillo no pyroblast costa 8 fireball più doppio celestero emissary ah ok fireball sì 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 6-7-8-9-10 fireball sì ho capito sì fireball a costo 10 va bene comunque tu puoi farlo turno per turno cioè alla fine tu non perdi mai quel più 4 di spell damage il fatto caro è che qui non si parla tanto del burst ma si parla del fatto che la nomenclatura spell damage viene utilizzata per mettere board e quindi cari io rialzo la dose e quindi vado a creare un deck tempo mage tra cui visto che non mi fa schifo ci metto pure il 3-3 che a ogni spell evoca un minion a costo 2 non mi ricordo come si chiama non mi ricordo capito il minion 3-3 che per ogni spell evoca il corvo la beccaccia metti la beccaccia trovi value nelle spell magari buffate trovi value nell'unaspective results perché nel momento in cui c'è anche la beccaccia in campo nel momento in cui l'unaspective results se evoca servitori la beccaccia evoca ancora servitori mettete una pressione incredibile non so se sta carta verrà giocata in tempo mage ma come concept è bellissimo perché finalmente ripeto lo spell damage non è vista solamente come bass ha una condition in più e quindi sta cosa a me piace parecchio poi la carta è forte però se la usi tu senza spell damage ti escono 2 se la usi senza spell damage caro in realtà non hai fatto un buon turno perché se a turno 4 non ti sono sopravvissuti servitori con spell damage secondo me a 4 mana evocare 2 servitori a 2 mana non la rende una giocata a tempo molto efficace no? a livello proprio di EV evochi 2 ma a costo 4 evochi 2-3-2 però aspetta c'è un ragazzo che dice una cosa interessante dice a questo punto mi aspetto che la Blizzard cambi da spell damage a spell power il fatto è che si ci sta spell power più che spell damage è vero ma è quello che ti dicevo io perché ormai il fatto di avere come dici tu lo spell power è visto solamente come danno capito? non deve essere per forza un danno è un qualcosa che aumenta lo spell power lo spell power aumenta di un danno le spell ma è anche vero che lo spell power fa una cosa che ricorda vagamente un ametista cioè che buffa una spell di questo tipo vabbè cari andiamo a parlare meglio di questa carta perché credo che la carta è lenta ma la carta è normale che sia lenta perché non è una carta come di rockard conosco solamente agata io no perché poi gli altri sono dead knight anche se alla fine sono i rockard tra tutte queste carte questa è la più lenta perché non fa niente quando viene giocata agata fa tre danni a tutti persino quella di rexar fa due danni a tutti i nemici fanno tutti qualcosa vabbè guldan è sbagliata fanno tutti qualcosa questa non fa niente te da sette di armor dice lui no io non è che non faccio niente io te do due armor di più rispetto alle altre che non sai se mandarlo a fare in culo subito dopo nel senso mi dai due armor di più rispetto alle altre grazie caro ma è chiaro ma è chiaro perché è dottor seven l'ho detto prima vabbè sette mana sette di armor se noi ci fermiamo qui e vabbè rimaniamo sul fatto che comunque i nostri mech hanno rush chiaramente il fatto che i nostri mech hanno rush non è un qualcosa da non trascurare è molto interessante però quando voi la giocate al settimo turno se l'avete in curva non fate nulla niente e quindi cari probabilmente andiamo a vedere la forza di questa carta che sono che professionalità che professionalità amma mia ci ho messo una vita a fare sta cosa perché prima l'ho messo sopra e non mi si vedeva la testa e quindi poi l'ho messo sotto sono stato bravo bravo ci ho messo un'ora e mezza a fare sta situazione qua però sono stato bravo sono contento di me stesso e tra un po' mi fumo una sigaretta quindi per essere allora parliamo cari chiaramente dell'eeropower il motivo per cui credo che questa carta sia una carta di tutto rispetto questa è una carta bellissima secondo me ed è una carta anche forte questa è una carta forte risiede sul fatto dell'eeropower ha dell'eeropower sgravi sta carta questa carta non prende valore quando la giocate perché quando la giocate è tempo loss questa carta cari prende valore ogni singolo turno dopo che è stata giocata perché ripeto ha dell'eeropower sbroccati ora prima cosa 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 fai cioè come swappano l'eeropower perché come vedete dopo tutti l'eeropower c'è scritto swap each turn che vuol dire swap come la swappo la swappo in ordine la swappo in disordine o la swappo in maniera rng la swappi in maniera rng non è che tu sei una rng e quindi è normale che ci sono dell'eeropower che in alcune situazioni vorreste vedere ci sono dell'eeropower che in alcune situazioni non vorreste vedere ma ci sono ieropower che voi a prescindere dalla situazione volete sempre vedere micro squad eeropower summons 3 1 1 micro bots quindi evocate 3 mech perché quelli sono mech no se sono bots sono mech 1 1 sono 3 mech 1 1 a 2 mana che fanno 3 danni perché hanno rush disgraziatamente forte è fortissima fondamentalmente è un unleash the hound anche se in realtà unleash the hound hanno carica è un unleash the hound depotenziato che costa un mano in meno certo poi unleash the hound fondamentalmente evoca anche più di una bestia ma in media ne evoca 3 quindi è una sorta di unleash the hound a 2 mana i bot hanno rush perché lo canta il potere eroe di dr boom e quindi cari il suo potere eroe è veramente molto forte zap cannon infliggi 3 danni a 2 mana infliggi 3 danni capite bene cari che è fortissima 2 mana infliggi 3 danni potete utilizzare i 3 danni faccia potete usare i 3 danni come value trade come trade value trade come trade il fatto è questo no il fatto è questo carissimi che comunque il potere eroe il potere della carta implica il fatto che voi dovete avere dei mech ora non è per cattiverio altro ma attualmente un mech warrior secondo me è infattibile no quanti mech sono stati rilasciati per il warrior uno e se non mi ricordo male il mech ma si vede che mi sto grattando ci vede la mano che si mua un po' un po' infatti mi sono attivo perché l'ho anche aperto cioè nel senso sono andato poco a fondo il mech il mech che è stato rivelato mi pare che è un settimana 3-6 giusto mech magnetic una cosa del genere comunque attualmente il 3-8 che rende in target va bene con magnetic eccetera eccetera il problema è che comunque non ci sono mech validi per il warrior quindi attualmente un mech warrior è infattibile quindi bisogna vedere questo comunque e fare 3 danni a cosa 2 è forte è molto forte delivery drone hero power discovery mech fortissima allora sembra un po' in realtà se pensi caro la zombessia di rexar no? tu fai un discover di un mech che sai sicuro avere rush perché il mech ha rush fai il discover di un mech che puoi farlo quando fondamentalmente non hai risorse per farlo comunque anche quando hai risorse per avere risorse aggiuntive crei un mech giusto per la situazione rispetto alla board fai un mech che ha rush quindi tu hai 8 mana hai un mech che ha rush quindi va sempre in trade la pignatta la pignatta per quello prima ho parlato della pignatta questa carri è molto forte come hero power perché ripeto anche in in zona di fatigo in zona in cui voi avete finito le risorse questa carta così come fa rexar ti dà risorse aggiuntive e quindi è molto 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 interessante blast shield questa cosa qui è terribilmente forte questa cosa qui è sgravata 2 mana 7 di armor questa fa male proprio solamente a pensare che può esserci un hero power che a 2 mana fa 7 di armor cioè pensate se non so in realtà questa cosa swappa no però pensate se esistesse un potere errori del genere che a 2 mana fai 7 di armor e ti chiedono della chat cioè voi voi con 5 turni vi siete fatti 35 di armor questo hero power è chiaramente veramente veramente forte questo è sbroccatissimo va in combo con shizlem vabbè questa cosa qua è terribilmente difensiva dimmi caro ti chiedono con la pixie come funziona chi è la pixie quella che refresce il tuo hero power 3 mana 3 4 non ho visto mai l'animazione però a ricordi logica voi tu usi il hero power lui te lo refrescia te lo fa vedere e poi lo occulta hai capito? dovrebbe essere così rega no voi fate il hero power non l'ho mai visto rega il dottor boominazione non so se voi l'avete visto se l'avete visto ditemelo a ricordi logica dovrebbe tu fai blast shield 2 mana ti fai 7 di armor il hero power cambia e poi però si occulta cioè si occulta si gira tu giochi la ragazza e te lo refrescia e quindi puoi giocare il nuovo hero power dovrebbe essere una cosa del genere il problema non avendo visto l'animazione di dottor boom che ora vado a vedere non lo posso sapere deal 1 damage to all minion ok 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 let's go avete ragione voi perfetto perfetto bastava semplicemente vederla io purtroppo non l'avevo mai vista avete ragione voi il hero power come ho detto io si occulta ma non si occulta dopo avertelo cambiato quindi fondamentalmente tu lo rifai quindi rifai lo stesso hero power peraltro l'hero power che abbiamo visto che è kaboom è purtroppo se vogliamo mettere l'hero power più scarso che vogliamo no a meno situazioni particolari in cui giochiamo contro aggro e quindi vogliamo per qualche motivo l'hero power di gherosh anche se non è proprio l'hero power di gherosh di che perché questo fa un danno anche al al come si chiama al ragazzo all'enemy al campione nemico a meno che non ci troviamo contro token druid e non abbiamo per qual motivo warpath in tutti gli altri casi cari non vogliamo mai in realtà prendere kaboom anche perché di attivatori di execute in realtà ne abbiamo tanti nel deck questo secondo me è l'hero power più brutto però anche vero che non potevano fare 5 hero power sgravi cioè nel senso gli altri in confronto sono fortissimi sono se mi facevi 5 hero power tutti forti erano gazzi ragazzi sta carta è molto bella secondo me è una carta molto valida è normale che ha quel tocco di RNG quindi va saputa giocare in un deck che probabilmente contro quindi sapete bene che il deck contro dei warrior è sempre un deck che purtroppo va saputo giocare perché non è facilissimo dovete riuscire ad adattare l'hero power alla situazione anche se abbiate pazienza adattare zap cannon micro squad delivery drone e blast shield non è che ci vuoi un genio adattare perché sono sempre cose forti 7 di armor 3 di attacco 3 1 1 con rush e discover un mech li usi sempre e kaboom purtroppo no e quindi penso credo l'hero power che meno volete vedere rispetto agli altri skill based esatto marconi esatto è una carta bellissima regà l'adoro l'adoro aspetta però tu ogni turno sei costretto a giocare l'hero power perché se no non cambia o no questa è una bella domanda non ho capito dice lui se non usi l'hero power swappa il turno dopo si swappa 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 cambia ogni turno che in realtà quindi no in realtà dovrebbe swap each turn ogni turno quindi sì ogni turno se lo usi o non lo usi perfetto caro lo swap ogni turno a prescindere da che lei l'abbia usato o no quindi ce l'hai tu non lo usi lo usi turno dopo cambia turno dopo cambia turno dopo cambia cambia di continuo cambia la cosa importante per rispondere alla domanda è che non cambia nel tuo turno quindi puoi utilizzare due volte l'hero power quindi è normale che a 4 mana farsi 14 di armor è abbastanza sgrava perché se sgrava a branching path che a 4 mana deve 12 sicuramente a 7 mana sì però tu a 4 mana fai l'hero power mica a 3 mana tu 4 mana fai 14 di armor il fatto che la il fatto che lei costi 3 è un altro discorso comunque c'è pure un 3-4 in bordo che c'entra ok ci sta sì vabbè è chiaro è una giocata da lit questo è chiaro zerex clonist gallery summons a 1-1 copy of each minion in your deck quindi prende una copia 1-1 di tutti i minion nel tuo deck con te non funzionerà mai sta c***a sì ma che ci vai al turno 9 al turno 9 non mi dire non mi dire non mi dire per il quest non mi dire per il quest che già mi sono brucato mi bruco tutta la mano non mi dire per il quest no no così metti mali è nottikappa regà sta carta è nottikappa evoca tutti 1-1 è nottikappa se ce l'hai nel deck malico se ce l'hai in mano va puttana la tua tk tu puoi basare un deck su una cazzo di spell no non puoi non puoi farlo non puoi farlo secondo me questa che carte cos'è allora l'unica cosa che mi viene in mente di dire adesso che l'ho vista è magari un deck basato con malicos velen tutte cose del genere voi le evocate se ce l'avete nel deck se non le evocate l'avversario ve le distrugge e poi le rimendate con la sperso ecco e fate fondamentalmente un big perché sta carta è da big priest che l'unica cosa che attualmente vedo è lentissima come la morte ma sapete bene che il big priest è stato da vedere avete ragione sono un bastardo sono ditelo pure sono un bastardo sei un bastardo vabbè non ho anche una cosa per dire avete ragione dicevo novemana spell leggendaria del prete evoca una copia 1-1 di ogni minion nel tuo deck a questo punto ne stiamo a parlare chiaramente è una mia reazione a caldo quindi potrò dire cose magari poco vere o comunque non giustissime quindi facciamo un nostro pool anche di questa dimmi 1-1 dopo l'euro power si swappa ogni turno quindi all'inizio del turno si swappa all'inizio del turno quindi non nel turno dell'avversario io però sono un coglione guarda perché faccio le cose sempre a metà perché sono frittoloso guardiamoci un attimo il video c'è il video allora cari lui è attaccato vaffanculo ma sei strozzo allora ok fermate no non si vede più comunque da quello che ho capito io questa roba cambia ogni turno quindi usa l'euro power turno dell'avversario non credo che cambi perché non avrebbe senso cioè che senso ha l'euro power che swappa anche nel turno dell'avversario la cosa importante è che all'inizio del tuo turno swappa no quello che dicono dicono essendo che swappa ogni turno dicono già nell'avversario saprà no 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 perché swappa all'inizio del tuo turno sta carta anche se c'è il duca che dice solo nel turno avversario così l'avversario sa eh raga purtroppo non me lo fa vedere sta cosa sarebbe importante da capire secondo me non ha senso vabbè questa chiaramente ok non penso ce lo facciano vedere perché purtroppo e bah perché spam guarda quel ragazzino dei kibler come si diverte ragazzino il cazzo chiaramente non è che odio io non ho più kibler non è che odio kibler però dio caro fate vedere qualcosa di decente sta spamando le motte per farci vedere guardalo pagato 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 sei kibler è peggio di tos peggio di di coso ok comunque passa a youtube senza annunci raga non ce lo fanno vedere più purtroppo non ce lo fanno vedere più secondo me è una cazzata se l'avversario conosce il nostro hero power quindi secondo me visto che la carta dice che swappa ogni swappa ogni turno vuol dire che swappa ogni turno quindi all'inizio del tuo turno swappa se dice invece che swappa ogni turno quindi passi il turno quello swappa è normale che l'avversario ne va a conoscenza ed è un casino se ne va a conoscenza perché ci può giocare attorno la vostra domanda è logica e licita e licitissima si avete ragione voi non lo so raga però purtroppo non posso dare mia risposta perché come sempre la blizzard ci fa vedere solamente quello che vuole loro mi pare che quando peraltro hanno mostrato la carta due mana del lock caro ha switchato una carta di merda nel voilord scriptato come pochi sono sono veramente scriptati da fare schifo figurati se ti esce il voilord perché ci fanno vedere il voilord perché ci fanno vedere sempre le cose che fanno loro detto questo non so cosa avete scritto ma che urli ma che sei matto che urli che urli che sei pure in posto pubblico sei swap alla fine del tuo turno basta questo è dimmi ti passo su discord che lo fa vedere oh dio caro ha fatto una cosa buona aspettate un attimo che mi tolgo sto dubbio anche se probabilmente ripeto molti di voi l'hanno già visto io purtroppo cari non l'ho visto con quale volume incredibile questo dipenderà dalla reazione che lascerò bolor se mi piace o meno ok hero power evoca 3 perfetto sono mech bello sto video esplicativo quindi cari essendo mech abbiamo la conferma che hanno rush ha cambiato hero power quindi l'avversario quindi l'avversario cari sa di hero power e quindi io devo mettere gr perché è una cosa bruttina questa si l'avversario lo sa grazie da dirlo quindi cambia ogni turno quindi era meglio che cambia alla fine del tuo turno ci voleva tanto scrive alla fine del tuo turno forse si cambia alla fine del tuo turno quindi usi hero power finisci il turno cambia hero power l'avversario lo conosce turno tuo hai quei hero power quindi se vogliamo per quanto comunque rimane forte hero power l'avversario può un minimo giocarci a turno comunque il duca l'aveva detto il duca caro ne sa una più del diavolo e sei tu che non ti fidi di quello che dice il duca io perché non l'avevo il duca il duca si cari andate tutti a mettere gr nella pagina dei blur no vabbè daga non è una merda cambia 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 però non è una merda non possiamo dire che anche se l'avversario sa che noi ci faremo 7 di armor ma sti grandissimi cazzi non è una merda non è una merda rimane comunque hero power piacevole l'avevo detto anch'io ma perdonami caro non lo so sono 5 il bottone rosso non fa niente lo vedi nella collezione ah ok parli con la perdonami caro con questa butti velen oh bravo parliamo di questa carta regà allora con questa dicevi butti velen più maligos eccetera eccetera è quello il discorso è una spell basata per milano tk e quindi tu v butti come hai detto te velen chiaramente devi avere nel deck perché comunque ragazzi questa è una carta molto late stage cazzo è a 9 di mana è normale che è late stage quindi l'ho giocata a 9 di mana quindi avete già pescato cose e c'è un rischio concreto che voi in mano avete velen però è anche vero che la giocate in un deck in cui tra le altre cose ci sono anche le spell a 6 quindi regà può questa carta far tornare il big priest che poi peraltro non è un big priest ma è un prete basato proprio sul bars in cui mettete velen mettete maligos in mano avete spell come la spell a 1 caro no quella che fa un danno avete chiaramente la mindblast potete anche mettere olinova è un deck di quel tipo è un big è un big priest questa carta è per un deck di questo tipo poi magari utilizzate i vari sconti potete fare danni imbarazzanti perché se ci pensate bene attualmente un big priest non avendo più bars gode per fare quello che è il requit cheat no cioè che vuol dire per andare a prendere nel deck un minion che costa tanto in mana lo prendete con una spell che costa molto meno che è la spell a 5 e prendete maligos ci sono dei casi in cui non lo prendete potete ripareggiare i conti con zerex cloning gallery che magari potrebbe essere giocata anche a 8 se avete già un elementale in campo e che ve prende tutti i minion 1 è normale che se voi fate un deck diverso da questo in cui ci sono più minion i minion massimi sono 7 quindi è normale che potreste prendere minion piuttosto che altri ma io credo che in un deck diverso da un big in un deck diverso da un deck combo questa spell non ha senso questa spell ha senso solamente in funzione del resurrect e ha senso in funzione della spell sono a 7 di mana in modo che i vostri 1-1 muoiono e voi li revocate e poi swingate con le varie mind blast e con le varie spell a 1 che fanno danni interessante non è male interessante non è male vista in questa ottica secondo me non è male si che c'è until down certo caro certo che c'è la vedrei davvero forte con un costo un pochino più basso sarebbe troppo forte tonzi poi sarebbe troppo forte a 8 mana cazzo sbroccata secondo me una carta bilanciata ti dico la chat con il gran archivista che è il gran archivista a 8 di mana ah beh vabbè si entra anche in uno spiteful cioè scusami non è uno spiteful devi giocare un deck non spiteful con un archivista che però caro mio ha quella spell ma tu capisci bene che il motivo per cui c'è quella spell è anche il motivo per cui ci sono mind blast ok spell che fanno danno che costano poco quindi il gran archivista potrebbe anche prenderti la mind blast e non so quanto è buono se questa carta caro tu me la facevi 8 mana qual era il problema da till dai che è facile dai che è facile se tu me la fai 8 mana qual è il problema di questa carta è che a 8 di mana ci stanno altre parti sei uno strozzo questo è dire che tu a 10 di mana potessi giocare questa carta più una carta 2 che renderebbe OP questa carta come l'elementale in doppia come l'elementale in doppia bravo spell a 1 eh quella che infligge non lo capisco è chiaramente mind blast o spirit lash no? non mi puoi giocare mind blast e spirit lash nello stesso turn in cui giochi sta bestia diventerebbe OP diventerebbe giochi 8 mana quella più mind blast fai una valanga di danni perché fai metti che ti esce maligos e velen che fai maligos più 5 fai 14 danni con spirit lash distruggi tutti e quindi puoi già giocare comunque un resurrec dopo e soprattutto quanta heal ti fai tantissima heal quindi non puoi vai a fumare caro vai a fumare vai a fangulo pure bravo non puoi giocare l'8 di mana secondo me caro è 9 bilanciata lo zolok potrebbe trovare qualche rivoltino positivo nella prossima esperienza caro se lo zolok continua a workare così come sta facendo ossia molto bene può trovare spazio attualmente non hanno rilasciato troppe carte per lo stregone a parte una che è molto interessante no 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 chiaramente caro ha chiamato carta 1 2 3 omega agent che purtroppo per quanto può essere forte non è adatta a un zoo perché necessita di 10 mana e se tu c'è uno zoo a 10 mana hai già impostato la tua partita difficilmente ti serve altra value tempo di questo tipo cioè 3 vali sul fire dungard oppure se sei un il zolok cazzo a 10 mana la partita è finita è finita caro se non è finita vuol dire che tu sei in estrema difficoltà e non basta mettere 3-4-5 perché 3-4-5 comunque l'altro avversario avrà comunque 10 mana e te li va a counterare per lo più facilmente non dico facilmente ma per lo più facilmente questo è quanto questo è quanto cari direi che è stata approfondita chiaramente verrà messa su youtube per chi vedo se è connesso adesso o per chi non l'ha seguita la metterò già domani probabilmente divisa in due pezzi perché due ore di car review penso che sia difficilissima da seguire e quindi probabilmente Aldo non so se ci sei caro ti iscriverò me la metti in due parti grazie a tutti 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 grazie a tutti